Marezz vicinissimo, dai che domani lo piamo, dai che domani lo piamo, porca puttana, vada dormiva Sono rotto le palle Mh Mmm 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 Ah Ah Preso Selar per un milione di euro Al Maribor il 10% sulla futura rivendita Oddio 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 No Ma come cazzo si fa? Ma chi cazzo è quello? Ma chi è quello? Parezzene qua e là Ma che c'è dovemmo fare? Come faccio la settimana a cacare sulla tazza? Oddio 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 Fatta la cacca e il culo si sciacqua Bidibibodibide Non si può far caccio Così comunque non si può Vaffanculo Io mi faccio la tazza? 1 Grazie a tutti.